Ciao a tutti sono Roberto e oggi vi faccio vedere Minecraft Ho scaricato una nuova mappa sull'applicazione Adesso la guardiamo e vediamo se ce la facciamo a vincerla Sono da solo Adesso questa mappa qua Che devo trovare questo bottone In un posto piccolo Sono sei livelli Dopo queste qua sono le regole Che non posso usare la creativa Non posso rompere i blocchi La creativa la posso usare soltanto quando ho finito già tutti i sei livelli Questa qua è la persona che ha creato la mappa Pumitao 02 Ecco andiamo al primo livello Ecco Livello 1 Adesso cerchiamo No non è qua Adesso dobbiamo cercare il bottone Per farci teletrasportare in un altro posto Non è qua Ah Beh non devo rompere niente vero Aspettate Ah ecco il bottone Ecco come avete visto ho schiacciato il bottone e mi sono teletrasportato in un altro posto Questo qua è il secondo livello che ogni volta che passa un livello Ci teletrasportiamo in un livello ancora più difficile dell'altro Qua c'è qualcosa Vediamo Vediamo No qua non c'è niente Mi sembrano Perché stavano questo l'aliena Beh adesso andiamo avanti Rispawner dei mob Forse è qua No Forse è qua del tronco No Allora Forse in questo buco Provo a cliccare Chissà mai Forse lo becco Aspettate Quello è un bottone o mi sembra No era un bottone Livello 3 Non ci credo Una mucca Qua c'è un buco C'è un buco Aspettate No Aspettate Ma come si faceva Mi sembra così Ma cosa Beh vabbè dai Lo controlliamo dopo Vediamo adesso nei buchi Forse è qua nei buchi Come nel livello 1 Che c'era il buchetto Col bottone Non è che è sul fungo Sopra Allora No Eccolo Non ci credo Non credevo che era dentro Il fungo proprio Dove sono? Quinto livello E sono sott'acqua Ah ma posso respirare All'infinito Allora Vediamo cosa c'è Qui dentro Ecco Siamo sott'acqua Come vedete Vediamo qui dentro Dai No Qui non c'è niente Mi sa Non è che sul Sul muro Aspettate Cos'è Ecco il bottone Non ci credo Questo qua era proprio facile Mi sembra Il più facile di tutti Aspetta Non riesco a cliccare Dai Sì Quinto livello Beh Allora Vediamo Che bello Chiuso In tutte le case Dovrebbe essere aperto Beh vabbè Allora No Questo qua è un mini parkour Una peccola Vabbè Dai Ecco Aspettate Ma se vedete La Ecco Lì è Quello Il livello dell'acqua E più indietro Ci sono altri livelli Ah questo qua è il quinto Quello là è il sesto Quello buio Mi sembra Se è buio Vediamo Qua c'è un buco E vabbè E vabbè Ho trovato già il bottone Ecco E io qua cosa faccio Come faccio Come faccio Wow Ecco Ecco il bottone No però ci dovrei arrivare No Bello Doi Ma è tutto nero Io come faccio a sapere Non è che Qua allo spawn Quando Sono spawnato Ah non mi da nulla Mi scrive solo il livello 6 E l'ultimo Questo dovrebbe essere Dai Dov'è Non è che può schiacciarlo così No Non me lo fa schiacciare Qua c'è un blocco Qua c'è un altro Oh Un buco Dai Salto 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 E salto E Bello Il sesto livello L'ho già fatto Fatto Eh Questa qua è la fine Bello Adesso qua Dovrebbe venire Il creatore Ecco Questo qua è il creatore Della mappa Dai Diciamo Fine Finish Ecco come era la mappa Adesso andiamo in creativa Impostazioni Mettiamo qua creativa Anche qua Dai Ecco Adesso siamo in creativa Questo qua era Beh Siamo arrivati qua Questo qua Beh Il sesto livello Tutto buio Che non si vedeva nulla Col parkour buio Qui è il mini parkour Per La c'era il bottone Lì Dopo qua Nell'acqua Con un po' di vetro Che se salivo Sul vetro Vedevo un po' Dopo qua E Quello del fungo Dove Sotto il fungo C'era Il bottone Dopo questa Che mi sembra Che era Dov'era Aspettate Mi sono confuso Si era la Il bottone Dopo Questo qua E l'altro Che era Lì il bottone Proprio E questo qua Dove Eravamo spawnati Prima Allora Andiamo Direttamente Nel nostro Bellissimo finish Nella nostra fine Beh Per questo è tutto Iscrivetevi Al mio canale Mettete like Scacciate la campanellina Per non perdere Nessuno Dei miei Fantastici video Ciao So Grazie a tutti